Tutto fermo in casa Teramo in attesa di novità che arrivino soprattutto dal fronte societario. Lo stallo che c'è riguarda eventuali trattative che nelle intenzioni di Iachini dovrebbero sostenere economicamente il progetto bianco-rosso partito nella stagione 2019-2020 ma rivisitato e corretto rispetto alla prima annata con un abbassamento dei costi già attuato in questa stagione e che a meno di ingressi di altri soci potrebbe essere fatto di ulteriori sforbiciate. Lo stand-by tuttavia incide anche sulle conferme, a partire da quelle di direttore sportivo e tecnico con Sandro Federico e Massimo Paci che aspettano buone nuove per capire se potranno continuare nel percorso iniziato col Teramo e costruire l'organico per la prossima stagione. Ed evidentemente poi è accascata le situazioni che riguardano anche alcuni elementi di questa stagione a partire da Bombaggi, Lewandowski, Costa Ferreira, Ilari, tutti in scadenza di contratto. I discorsi in questo caso sono molto differenti tra loro. Ma ha valutato l'impatto tecnico di questi giocatori e d'altro canto anche la possibilità che potrebbero partire per abbassare il monte in gaggi complessivo. Paci attende una chiamata perché in primis vorrebbe proseguire il lavoro fatto in questa travagliata stagione condizionata da Covid e porte chiuse. Ma sa anche che quanto fatto a Teramo spinge alcune società a chiedere informazioni sul suo conto e questo mal si concilia con le riflessioni di Iachini e gli incontri che sta avendo per capire se c'è la possibilità di passare la mano in tutto o in parte. Con la Rosa in vacanza prima vanno sistemati i testelli societari. Farlo in tempi brevi però è la sfida più complessa, considerando che in ogni caso il Teramo ha già un'ossatura composta da Santoro, che comunque è e rimane l'uomo mercato per eccellenza, Mungo, che è un altro anno di contratto, così come Viero e Arrigoni, e da una difesa che potrà contare su quasi tutti gli interpreti di questa stagione. Un altro anno di contratto per Soprano, altri due per Trasciani, Piacentini e Diachite. Con quest'ultimo, anche lui, al centro di tante voci che lo vorrebbero presto andare verso altri lidi. Ma senza la certezza di quale progetto e della portata dello stesso è ancora impossibile pensare di fare valutazioni su come andare a puntellare questo organico e a chi farlo guidare. Ecco perché questi sono giorni di incontri frenetici per Iachini che poi dovrà esporre ai suoi le linee guida e iniziare a pianificare un'annata complicata dal punto di vista della concorrenza, almeno quanto quella che il diavolo si è appena lasciato alle spalle.